Tra le polemiche sul progetto politico Borgna, definito da Demichelis del PD un fallimento, e ringraziamenti per il lavoro di Giraudo, consigliere dimissionario, in molti hanno preso la parola per lamentare o appoggiare il lavoro dell'amministrazione durante il Consiglio Comunale di ieri sera, lunedì 21 settembre. Il duello verbale tra i diversi gruppi è continuato per più di due ore, con parecchi interventi, in cui si è distinta la richiesta di Fierro di andare a nuove elezioni. Il Sindaco ha girato intorno alla questione, spiegando che il Paese ha bisogno di riforme e del coraggio di farle, e che è meglio andare avanti a scossoni che non andare avanti del tutto. La visione della città e la sua programmazione nascono dal confronto tra i gruppi, ha sostenuto il Sindaco, e, rivolgendosi a Fierro, ha dichiarato «Noi ci presenteremo di nuovo nel 2017». Nonostante le ore di discussione, Gigi Grelli ha preso la parola per la dichiarazione di voto, sostenendo di votare contro questo modo di fare politica, perché stanco e deluso. Beppe Lauria ha sottolineato che, in meno di tre anni di amministrazione, sono state ben sei le persone intorno al Sindaco che si sono allontanate dal mondo della politica, Isaia, Rosso, Collidà, Roseo, Giraudo e Erio Ambrosino. Quest'ultimo, da anni in consiglio tra assessorati e gruppi politici, ha infatti annunciato il proprio abbandono del ruolo di consigliere. Non riscontro più motivi di entusiasmo né con Cuneo Solidale né con la maggioranza. Nonostante la sofferta decisione, Ambrosino ha però ribadito la volontà di continuare a partecipare alla politica locale e a cercare di fare la sua parte al di fuori del ruolo politico. Il voto si è concluso con due contrari e 28 favorevoli e l'ingresso della nuova consigliera del centro Lista Civica al tavolo del Consiglio. Quel che è certo è che la maggioranza perde due consiglieri di assoluto valore, peraltro entrambi ex assessori della Giunta Valmaggia, perdendo quel trade union che la legava alla precedente amministrazione, con la quale ha sempre meno punti in comune. Intanto Borgna è sempre più in difficoltà e le sue mancate risposte su qualsiasi argomento stanno iniziando a stancare i cittadini.